One minute, Mr. Rinaldi. Grazie, signori colleghi. Oggi siamo chiamati a votare non per l'uscita del Regno Unito dall'Europa, ma dall'Unione Europea. E per quel che mi riguarda, il Regno Unito fa parte dell'Europa dalla notte dei tempi e ci rimarrà finché la Terra girerà intorno al Sole. Il problema è che hanno esercitato un sacrosanto diritto, perché la più grande conquista del genere umano è aver attribuito la sovranità al popolo. E il popolo del Regno Unito lo ha perfettamente incarnato, questo principio. Piuttosto, credo che la storia sarà estremamente severa nei confronti di Barnier, che è stato il peggiore dei negoziatori possibili. Nel 2016 disse, sarei riuscito nel mio compito se alla fine l'accordo fosse così duro con gli inglesi che preferiranno rimanere nella Unione Europea. Spero che un giorno si vergogni e chieda scusa per queste affermazioni. God save the Queen. Grazie. For one minute, Mr. Bourgeois.